Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questo dal colore di Retrocomputing in questa puntatona parleremo di SCASI contro Firewire la SCASI, Small Computer System Interface fu una storica interfaccia progettata nel lontanissimo 1978 serviva per realizzare il trasferimento di dati in modalità parallela fu commercializzata dal 1986 con il Macintosh Plus e poi divenne uno standard per il Macintosh peculiarità della SCASI è che è un'interfaccia a freddo ossia le periferiche vanno impilate con la macchina spenta la SCASI non è maneggiabile come la USB per intendersi ogni periferica SCASI ha il suo ID che solitamente varia da 0 a 7 il ID 0 non va mai usato, tantomeno vanno usati gli ID SCASI già utilizzati su altre periferiche per evitare conflitti solitamente l'hard disk SCASI di solito sta sull'ID 1 il CD-ROM SCASI se esiste, se è presente sta sull'ID 2 oppure 3 la prima e l'ultima periferica della catena SCASI deve essere terminata altrimenti la catena SCASI non può funzionare quindi se avete una sola periferica SCASI la dovete terminare se ne avete due le dovete terminare tutte e due se ne avete tre dovete terminare la prima e l'ultima e non quella di mezza detto questo, con il tempo sono state progettate vari tipi di SCASI SCASI 1, SCASI 2, SCASI 3 SCASI 1, numero massimo di periferica della catena SCASI sono 8 il transfer rate di circa 5 MB al secondo massima lunghezza del cavo 6 metri SCASI 2, massimo numero di periferica della catena SCASI varia tra 8 e 16 a seconda delle varianti se FAST SCASI o WIDE SCASI il transfer rate varia tra i 10 MB al secondo oppure i 20 MB al secondo massima lunghezza del cavo tra 1,5 e 3 metri SCASI 3, e la variante ULTRA SCASI o FAST SCASI il massimo numero di periferiche della catena SCASI sono 16 il transfer rate varia tra i 20 MB al secondo e i 40 MB al secondo massima lunghezza del cavo 3 metri a questa versione di SCASI 3 sono poi state sviluppate varianti come ULTRA SCASI 3 con il transfer rate che variano da 80 MB a 640 MB al secondo la più conosciuta SCASI è ovviamente la SCASI 1 essendo l'interfaccia standard per tutti i Macintosh motorizzati dai Motorola 68000 della famiglia 68000 a quanto dai PPC RISC i Macintosh ebbero a perdere la SCASI nei modelli G3 BEGE e gli ultimi Macintosh dotati di SCASI appunto furono i MINI TOWER BEGE mentre i primi Macintosh per avere installata la Fireware furono i G3 BLU e WIDE se non l'avete fatto io vi invito a visionare il podcast su quale G3 Tower collezionare per retrocomputing in cui appunto discuti di questa storica frattura tecnologica ma Fireware, il nome fu inventato da Sony è uno standard noto anche appunto con il nome IEEE1394 è un'interfaccia standard a caldo con un gusto seriale di proprietà dell'Apple supporta due diverse modalità di trasferimento dati sincrona e asincrona dunque l'interfaccia Fireware è tecnicamente superiore all'interfaccia USB ma quest'ultima, la USB, è molto più diffusa per via del fatto che i produttori hardware dovevano pagare il brevetto della Fireware ad Apple e quindi per risparmiare preferivano utilizzare le varianti USB oppure lo spinotto HDMI quindi USB e nelle sue varianti l'HDMI hanno finito per mettere in penombra tecnologica la Fireware che appunto risulta essere molto meno diffusa e molto meno nota della vecchia e storica SCSI ma Fireware supporta fino a 63 periferiche organizzate in una rete non ciclica e permette una comunicazione peer-to-peer tra i dispositivi il soffisso numerico Fireware 100, Fireware 200, eccetera specifica la velocità di trasferimento dati del dispositivo che può supportare un minimo di 100 Mbps fino a udite o udite a un massimo di 3200 Mbps la lunghezza del cavo è solitamente limitata a 4,5 metri ma con opportuni accorgimenti il cavo Fireware può arrivare fino a 72 metri questo è più o meno tutto un saluto ciao alla prossima ciao